...europei prevasti sulle sentenze dei tribunali italiani e siamo ad un passo dalla perdita totale della sovranità nazionale. Queste probabilmente potrebbero essere le ultime elezioni europee in cui noi andremo a votare con l'Italia come Stato nazionale. La prospettiva entro i prossimi cinque anni di concluire negli Stati Uniti d'Europa che stando questa situazione si rivederanno un protettorato tedesco dove l'Italia si ridurrà ad essere una colonia economica.